Buongiorno a tutti. Allora, prima di farvi il campionato italiano, perché devo anche vedere le gare, gli highlight eccetera eccetera, e non so se ve lo faccio questa sera o domani, perché adesso farò il campionato tedesco Berliepilogone e poi vedo anche il campionato inglese, perché se è finita anche qua vi faccio il campionato inglese e lascio il campionato italiano con calma, per domani sera magari con calma, oggi pomeriggio prima di andare al lavoro mi vedo tutti gli highlight e tutto quanto e poi la sera vi faccio quello e così faccio, perché fare le cose di corsa tanto non ci corre dietro nessuno, chi li doveva fare li ha già fatti, chi mi segue ha piacere di seguirmi mi segue lo stesso anche il giorno dopo. Quindi andiamo a vedere come è andato il campionato tedesco, ma prima visto che è l'ultimo giorno che vi mostro la magliettina del Gigione, facciamo vedere la magliettina del Gigione con la frase, perché nei due video precedenti uno non potevo perché avevo la maglietta dell'Inter e l'altro mi sono proprio dimenticato che era il campionato spagnolo, l'epilogone del campionato spagnolo, con questo Real Madrid che mi perde il derby. Ma comunque eccola qua la magliettina del Gigione con la frase, che poi poi andiamo a parlare di questo campionato tedesco da libidine. Bene 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 bene, si è iniziato venerdì sera e devo dire che le due squadre ne ho promosse, il Dunstad e l'Eidenheim, hanno una peculiarità, segnano sempre, poi perdono, però il gol lo fanno e riescono a tenere la partita in biligo almeno nel primo tempo, poi crollano, però perché anche venerdì sera nell'anticipo contro lo Stoccarda addirittura il Dunstad era passato in vantaggio grazie a noto gol, poi lo Stoccarda ha pareggiato, si è portato in vantaggio già nel primo tempo e poi il terzo gol è arrivato al 92esimo, quindi la partita è stata in bilico fino quasi alla fine perché al 92 è arrivato il terzo gol dello Stoccarda, non vincono, cioè sono sempre lì, però almeno vedi che ci provano, temo che tutte e due torneranno di nuovo in Bundesliga 2, però ci stanno provando, ecco. Veniamo alle partite di sabato, l'Ausburg pur rimanendo in 10 dal 62esimo è riuscito a tenere il 2 a 1 del primo tempo perché era passato in vantaggio al Mainz, poi l'hanno ribaltata e poi sono rimasti in 10 dal 62esimo, ma sono riusciti a resistere a questo Mainz che secondo me sta subendo le maledizioni che gli sono arrivate dai tifosi del Borussia Dortmund quando l'anno scorso, o meglio qualche mese fa, nella scorsa stagione, il Mainz è andato a vincere in casa del Borussia Dortmund all'ultima giornata regalando praticamente lo scudetto a Real Madrid. Quindi probabilmente i tifosi del Borussia Dortmund non è che l'hanno presa benissimo, visto che tra l'altro al Mainz quella vittoria non serviva a una beata Giovanna, visto che erano tranquilli a metà classifica, scusate il raffreddore, raffreddorino, quindi per cui mi sa che quest'anno gli sono arrivate tante di perché il Mainz veramente sta andando maluccio, quindi magari è colpa della squadra ma magari può essere anche la maledizione di quelli del Borussia Dortmund. Proseguiamo col Bayern Monaco che ha giocato a tennis, ha fatto un tie break col Bokum vincendo 7 a 0, non c'è bisogno di aggiungere altro. Ve l'ho detto il Bayern Monaco come sempre inizia, poi e poi vola. L'anno scorso ha fatto un po' fatica, mi sa che quest'anno non hanno alcune intenzioni di far fatica e vogliono già chiudere il discorso per Pasqua. No, per Pasqua sarà difficile perché arriva a fine marzo, diciamo per metà aprile, fine aprile. Vedremo, vedremo. Il Lipsia non senza difficoltà va a vincere un a 0 in casa del Borussia Monceblabach, questo Lipsia sorprendente che potrebbe essere la squadra che va a sostituire il Borussia Dortmund a dare fastidio al Bayern Monaco. Quest'anno potrebbe essere il Lipsia l'anti Bayern. Anche il Borussia Dortmund vince di misura solo un a 0 con il Wolfsburg. Crisi Union Berlino ragazzi. L'Union Berlino l'anno scorso è riuscita ad arrivare in Champions, sta giocando la Champions, è iniziato subito malino se non erro e domenica ha perso, anzi sabato ha perso 2 a 0 in casa con l'Ofenheim e quindi la classifica piange lacrime amare. Se non sta attenta l'Union Berlino rischia di andare a raggiungere i fratelli dell'ERTA in Bundesliga 2, anzi magari l'ERTA torna in Bundesliga e loro scendono in Bundesliga 2. Vedremo il proseguio del campionato cosa succede. Il Werder Bremen ha battuto 2 a 1 il Colonia e veniamo all'Everkusen che ha battuto 4 a 1 l'Eidenheim, ma anche qui ragazzi miei 1 a 0 l'Everkusen al nono minuto. Pareggia al 58esimo l'Eidenheim, poi al 63esimo, 74esimo e 82esimo il Leverkusen gliele fa altre 3. Però vedete 1 a 0, 1 a 1 e poi crollano. Di là 2 a 1, 1 a 0, 1 a 1, 1 a 1, anzi 0 a 1, 1 a 1, 2 a 1 e il terzo gol arriva al 92esimo. Quindi queste due squadre neopromose non è che fanno proprio le vittime sacrificali. Il problema è che alla fine crollano. Vedremo, vedremo come andrà avanti il campionato, per ora le vedo maluccio, ci provano almeno. Infine eccolo qua, uno 0 a 0 malefico. Tra entra Francoforte e Friburgo. Uno 0 a 0 che non serve una beata Giovanna. Cioè nell'era dei tre punti il pareggio è una mezza sconfitta ragazzi. Soprattutto per le squadre che puntano alle zone alte. Perché per le medio piccole che lottano per la salvezza eccetera. Anche un punto può essere importante perché magari le altre punti ne fanno pochi. Quindi fare sempre il punticino, portare a casa un punticino anche ogni domenica, ogni tanto quello che è. Va bene per una squadra che lotta per salvarsi. Ma a me le squadre come Aitra, Friburgo, Leverkusen, Verder Breva, quelle grandi, quelle che lottano per i primi sette posti che valgono l'Europa. Il pareggio può magari andare bene a quella che è in trasferta, ma quella che è in casa è una mezza sconfitta. Andiamo a vedere la classifica ragazzoli perché il Bayern Monaco e il Leverkusen non mollano. Proseguono il loro braccio, braccetto, braccettino, belli appiccicati a 13 punti. Seguiti dallo Stoccarda a 12. L'anno scorso lo Stoccarda ha fatto lo spareggione, quest'anno lo Stoccarda fa sul serio. Quindi Stoccarda, Lipsia e Offenheim a 12. E se Lipsia e Leverkusen sono squadre che ci può stare che siano lì. Offenheim e Stoccarda l'anno scorso fecero un campionato un po' così così, vederle lì in alto, ma sono tutte lì perché poi a 11 troviamo il Borussia Dortmund e poi ci fermiamo perché poi si scende a 9 punti col Wolfsburg, a 7 con l'Aintra, col Friburgo tutte e due a 7 punti. L'Union Berlino è a 6, pensate, a 7 punti dal primo posto. L'anno scorso è stata sempre lì nelle prime posizioni sin dall'inizio. Il Werder Bremen è a 6, l'Ausburg a 5, Haydn è ma 4, Bokum a 3, Borussia Mönchengladbach a 2, Colonia, Darmstadt e Mainz a 1. Signori, vedere il Borussia Mönchengladbach a 2 punti in piena zona retrocessione come anche il Colonia. E poi ancora più clamoroso, il Mainz che l'anno scorso regalò lo scudetto al Bayern Monaco. Andiamo a vedere la prossima giornata che si giocherà venerdì, si parte venerdì con Offenheim, Borussia Dortmund, è già una sfida bella di cartello tra due squadre vicine e vicine, con l'Offenheim davanti al Dortmund di un punto. Quindi diciamo che è una partita della verità che potrebbe confermare questo Offenheim in zona alta e mettere magari in crisi il Dortmund in caso di sconfitta o viceversa rilanciare il Borussia Dortmund e rimettere a cuccia tra virgolette l'Offenheim. Poi c'è un Colonia Stoccard ed è un'incredibile testa a coda. L'anno scorso era lo Stoccard che era in fondo alla classifica, il Colonia era un attimino più tranquillo tra virgolette. Quest'anno ci sono girate le cose, lo Stoccard è lassù e il Colonia è laggiù. Poi c'è Hayden, Union Berlino e ragazzi miei, questa è una sfida salvezza e nessuno non l'avrebbe mai detto perché l'Union Berlino ha sei punti, è a centro classifica. È un'occasione per l'Union Berlino contro la neopromossa per cercare di riavvicinarsi alle zone alte, però l'Hayden non è lì, eh? quindi non è lontanissimo perché è il Danstad che ha messo maluccio. L'Hayden ha 4 punti, potrebbe addirittura riuscire nel sorpassone all'Union Berlino e sarebbe abbastanza clamorosa. Poi c'è Wolfsburg-Eintracht, Bokum-Borussia-Montchenblabba che è un'altra sfidina interessante in zona salvezza, Mainz-Leverkusen è un altro testa a coda e poi c'è la libidi dei ragazzi. Sabato alle 18.30 c'è la partita da doppia libidi dei cui faiocchi, Lipsia-Bayern Monaco. Qua in Lipsia lancia il guanto di sfida al Bayern. È la sua occasione per dire signori quest'anno l'anti-Bayern siamo noi, non è più il dormo ma siamo noi ed è l'occasione per il Bayern non Monaco di dire ciccio stai a cuccia che devi mangiarne ancora di michette per essere al nostro pari. Quindi partita delicatuccia ecco per intenderci. Tra l'altro tenete conto che poi la settimana, a metà settimana c'è altra giornata di Champions, quindi c'è anche da pensare a quello e vale per tutte e due sia per il Lipsia che per il Bayern Monaco. Adesso non so se il Lipsia, non ricordo se è in Champions, sono in Rappaligo quello che è, però anche il Lipsia c'è la giornata di Coppa. Danstad, Verder Brema e Friburgo a Augsburg sono le ultime due partite della domenica. Quindi una giornatina interessante con un Lipsia-Bayern Monaco da libidine. Per il resto c'è un po' di testa a coda, un po' di sfide tra due squadre più o meno alla pari eccetera eccetera, però c'è questa bella sfida Lipsia-Bayern Monaco che potrebbe già dare delle belle risposte alla situazione campionata. Ragazzi soli, vi ho parlato un po' di tutto in maniera rapida, veloce, simpatica eccetera eccetera, 13 minuti e 40 di video poi diventeranno 14 alla fine ora che faccio i saluti. Penso che possano andare bene, non sono tanti, non sono pochi, sono giusti e naturalmente ci vediamo alla prossima, vado a vedere se il campionato inglese è concluso oppure no. Detto questo ci vediamo alla prossima, ciao!